Impara il bulgaro mentre dormi. Impara le frasi e le parole più importanti di bulgaro mentre dormi. Per principianti e altri video come questo. C'è ora arrivano? Poco è vremè prestigati? Per chi lavora? 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 RABOTIA V RESTORANTE VIE BIAHTE PRAV Imate ли някакви монети? Imate ли някакви монети? ATORTO SONO MOLTO MOTIVATO MNOGO SEM MOTIVIRAN MNOGO SEM MOTIVIRAN MNOGO SEM MOTIVIRAN LA RINGRACIO BLAGODARIA non mi piacano i pab azz ne obitam cracmi azz ne obitam cracmi azz ne obitam cracmi azz ne obitam cracmi mi capisce? razz birate li me? razz birate li me? razz birate li me? razz birate li me? posso? može li? može li? može li? može li? ho bisogno di una lista della spesa razz birat azz ne obitam cracmi razz birat azz ne obitam scade domani azz ne obitam cracmi azz ne obitam cracmi azz ne obitam cza Chi ha detto questo mese? Questo mese. Questo mese. Sono in vacanza. Cosa c'è Piercina? 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 Quanto succero vuoi? Quanto succero vuoi? Vieni qui? Ho due sorelle. Non hanno nulla in comune. Non hanno nulla in comune. Cosa hai detto? Quanto succero vuoi? Sei arrivato. Vai da quella parte. Idi natam. Accendi il forno. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ecco il mio codice di prenotazione. E' troppo tardi. E' la vita. E' molto freddo oggi. Non l'ho mai fatto prima. Sto scherzando. 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 Quante persone? Stai bene. Non è durato molto. Non è durato molto. Non è durato molto. Non è durato molto. Sono socio di uno studio legale. Era davvero delicioso. Non è durato molto. 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 Non è durato. Non è durato molto. Non è durato. 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 Non è durpho. Non è durato. Non è durato. S&A. Che cosa apprendi? Che cosa apprendi? Perché non? Perché non? Perché non? Ho dimenticato l'ombrello. Faccio il contabile. Lui è molto maturo. Lui è molto maturo. Lui è molto maturo. Lui è molto maturo. Sono ibrello. Sono interessato alla cultura. Io sono interessato alla cultura. Sei arrabbiato? Io sono lì. 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 Ti credo. Io sono lì. 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 E qual è il processo? Manda mi un e-mail. Prati mi e-mail. Mi piace il tuo senso dell'humorismo. Mi piace il tuo senso dell'humor. Mi piace il tuo senso dell'humor. Mi piace il tuo senso dell'humor. Sono in sovrappeso. Mi piace il senso dell'humor. 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 Mi è tu. Mi è tu. Mi piace il senso dell'humor. Mi sta facendo tardi. Mi piace il senso dell'humor. Mi piace il senso dell'humor. Mi piace il senso dell'humor. Quando si aspettavano il prossimo autobus? Quando si aspettavano il prossimo autobus? L'ogia visto Vecche sem go vissdall Preferirei di no Che cosa mi consigli? Che vogliono due ore di auto È abbastanza Si tratta di un lungo weekend La sua stanza è molto piccola Staiata mu 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 è molto piccola Prego Molia 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 Non ne ho bolia Molia 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 Quanto sei alta? Il film è stato deprimente. Il film è stato deprimente. Mi aspetto? La porta è chiusa a chiave. Io lavoro con i computer. È giusto. Faccio volontariato. Rapportia na dobrovolni начала. Rapportia na dobrovolni начала. Rapportia na dobrovolni начала. Sõmniavam se. Sõmniavam se. È uno status symbol. Tava è simbol na status. Sono protestante. Prendi la stessa cosa. È stato bello. È una relazione complicata. Lavori oggi. Tanto tempo fa? Včera, 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 včera. Včera, 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 včera Capo imparavano i miei figli? Capo imparavano i miei figli? Sono dispirato. Sono dispirato. Sono dispirato. A che ora chiude la cucina? Coga zatvaria cuchnata? Coga zatvaria cuchnata? Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Gli piace molto. Sto studiando un sacco. Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Non ho ritzano non ho rimpianti. Non ho rimpianti. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Ho fatto un errore. Ho fatto un errore. Ho mangiato troppo. Lui è molto atletico. 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 È stato un pareggio. Ho bisogno del tuo consenso. È stato emocionante. È stato un malinteso. 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 in tre settimane gli piace la scuola gli piace la scuola gli piace la scuola gli piace la scuola abbiamo finito la benzina in quale università sei? questo è il suo libro non mi piace questo posso provarlo? posso provarlene? posso provare? posso provarlo? Puoi spenere la luce? Probalo. Probavai. 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 Cosa ti va adabere? Kakvo šte pijes? Kakvo šte pijes? Il business è redditizio. Bizznesat è pechelivš. Bizznesat è pechelivš. Bizznesat è pechelivš. Bizznesat è pechelivš. Sono bravo con i soldi. Bizznesat è pechelivš. Bizznesat è pechelivš. Bizznesat è entusiaziran. Bizznesat è entusiaziran. Non è molto lontano. Bizznesat è molto lontano. Bizznesat è molto lontano. Bizznesat è troppo dolce. Bizznesat è molto lontano. Ti ricorderei di me. Come si prende? Sto venen do apprenderti. Idvam da te vzema. Lo prometto. Obestavam. 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 Qual è il tasso di cambio? È un ottimo studente. Come stanno i tuoi genitori? Come stanno i tuoi genitori? Come stanno i tuoi genitori? Come stanno i genitori? A che ora dovremo incontrarci? Ho ancora molto da fare. Ho ancora molto da fare. L'altro ieri. Non ti dimenticare. Questa è una tradizione. E tu? La stanza era silenciosa. La stanza era silenciosa. La stanza era silenciosa. La stanza era silenciosa. Cosa detto? La stanza era silenciosa. 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 Abbiamo giocato a calcio. Voglio farti una domanda? Il cibo era delicioso. Il cibo era delicioso. Il cibo era delicioso. Il cibo era delicioso. C'è stato seleccionato. Non penso proprio. È impossibile. Mi dispiace. Să-ž-ă-l-a-vam. 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 Arrivo subito. Idvam vednaga. Idvam vednaga. Idvam vednaga. Quanto costera? Col-o-l-a-vam. 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 Sono un catolic. Azi sunt catolic. Azi sunt catolic. Azi sunt catolic. La decisione è definitiva. Il denaro non mi motiva. Parite ne me motiva. Parite ne me motiva. Parite ne me motiva. Parite ne me motiva. Qualcuno vorrebbe un cafe? Nia-ko-i-i-s-ca-li-ca-fe-e. È lontano? Dal-o-l-e-c-e-li-e. Quanti anni-a? Parlo due lingue. Non è lontano da qui. Non è lontano da qui. Non è lontano da qui. I suoi vestiti sono molto moderni. Sei da solo. Mi piace ascoltare musica. Quanto tempo sei rimasto in America? Mi hai fatto piangere. Ti 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 mi hai fatto piangere. Lei non mi piace. Non mi piace. Di non mi piace. Non mi piace. A è finito di studiare. Hai voglia di un drink veloce? Iscash li edna bđrza napitka? Aqe ora ar riberai? Stai vedendo qualcuno? Aqe ora ar riberai? 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 Non ti deludere 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 Ha un'opinione ben definita. Come lo scrivi? Stai attento. Qual è l'indirizzo? Io di solito bevo caffè. Lavoro nel settore IT. Io sono allergico. Sembra strano. Adetto una bugia. Ho un piano. Sono in città. Io sono in città. Io sono in città. Quanto dura il viaggio? Siamo stati a scuola insieme. Siamo in città. 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 Buona giornata. Siamo in città. Buona giornata. Buona giornata. Città. Qual è il punteggio? Qual è il risultato? 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 Tu sei molto premuroso. A ragione? A ragione? A ragione? A ragione? A ragione? Mi piacerebbe andare al negozio. A ragione? 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 Ma ragione? A ragione? Il computer è rotto. È bello vedere ti. L'è manca fiducia. 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 Stasera. 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 Sto cercando questo indirizzo. 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 Questo indirizzo. Questo indirizzo. Sto cercando 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 questo indirizzo. è la tua prima volta qui avrai voluto avere sono felice di sentirlo questo è mio marito non sto lavorando in questo momento sto cercando lavoro c'è la quasi fatta non mi interessa il calcio non mi interessa 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 la cosa è sicurata Sì tratta di un accordo reciproco. Per chi lavora? 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 Non mi piacano i pub Azz ne obitam cracmi Azz ne obitam cracmi Azz ne obitam cracmi Azz ne obitam cracmi Posso? Mose li? Mose li? Mose li? Mose li? Que journo è oggi? Kakăv den e dnes? Kakăv den e dnes? Vole guardare un film? Iscate li da gledate film? Iscate li da gledate film? Iscate li da gledate film? E molto gentile Mnogo ste mil 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 Non voglio disturbarti. Non è giusto. Questo mese. Lavoro nelle vendite. Non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Non abbiamo figli. Non è stato stressante. Lavoro qui. 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 Niente inizio. Niente inizio. Niente inizio. Niente inizio. Niente inizio. Borresti del vino? Bi li iscali malco 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 vino? Sei arrivato? Pristignali. 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 Ha una bella macchina. Toi ima hubava cola. Toi ima hubava cola. Toi ima hubava cola. Toi ima hubava cola. Acendi il furno. Vcli furna. Vcli furna ta. Vcli furna ta. Vcli furna ta. Questo non funziona. È stato un caso. È stato un caso. Canto in un coro. 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 Non ti preoccupare. 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 Spare la luci. Non fumo. Non fumo. Quali sono le possibilità? Quali sono le possibilità? Quali sono le possibilità? Tuk eslizam. Tuk eslizam. Tuk eslizam. Accendi l'auto. Temo il peggio. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Che terribile giornata. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Dobbiamo riordinare. Tuk eslizam del peggio. Non sono occupato. Tuk eslizam del peggio. 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 I miei sentimenti sono profondi. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Tuk eslizam del peggio. Che cosa prendi? Cacc случ? Caccþ ho... Cacc ho ecc... Cacc.... Cacc 달라. Caccvertano. Quando vorresti viaggiare? 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 Non dirlo neanche. Ne go spomenavai. Ne go spomenavai. Ti credo. Il tempo è orribile. Vremeto è uggasno. Vivo per conto mio. Vuoi dello zucchero? Non mi sento bene. Non mi sento bene. Non mi sento bene. È stato un attacco personale. Sono molto impegnato. Sono depresso. Sono depresso. Sono depresso. Prenderò anche quello. Che vsema e tue. Che vsema e tue. E' abbastanza. 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 Sei alta. Colco si viso. Colco si viso. Colco si viso. Colco si viso. Ti piacerebbe guardare la tv. Iscash li da guardare la tv? 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 Per quanto possibile. Colco si viso. More them man. Color lo وت Shane pe highest. Colco se muže poveähän? Ponlo poco se muže poverese. ολco se muže pove lettuce. Azi sunt protestant. Da cui ali? Od tuk do tam. Non essere dura. Sto studiando storia. Uča istoria. Lavoro nell'editoria. Sono vedovo. Vdovec sam. Sono un amo di buon gusto. Mi piace molto. 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 Qual è la tarifa? Qual è la tarifa? Qual è la tarifa? Ho bisogno del tuo support. Ho bisogno di tue, soprattutto. Ho bisogno del tuo support. Ho bisogno di tue, tutti. Ho bisogno del tuo support. ieri pomeriggio вчera sledobed вчera sledobed вчera sledobed вчera sledobed questo è mio figlio cosa fanno i tuei genitori? come faccio i tuei genitori? come faccio i tuei genitori? come faccio i tuei genitori? sono disperato non ho rimpianti 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 L'anno prossimo Questo è tutto È stato pericoloso Sono senza lavoro Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Sbrigati E tutto ok Abbiamo bisogno dei biletti Bai sul ponte Premini po mosta Premini po mosta Premini po mosta Ti auguro un buon viaggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buon pomeriggio Buona casa è molto grande. È da molto tempo che non ci si vede. Oddavna ne smè se vissi. 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 È scomodo. Mi piacerebbe knowledgeare una macchina. È scomodo. 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 Mi piacere la cucina italiana. È scomodo. 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 La sedia è comoda. Stol è utobin. Dormi bene. Spi spokojno. Spi spokojno. Spi spokojno. Come vi conoscete? Odcadde se poznavate? 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 Moga li da ti pomogna? Mi piace lui. Haresvam go. Haresvam go. Haresvam go. Haresvam go. Hai fratelli o sorelle? Imaš li bratia ili sestri? 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 Ti trovo benissimo. Izgledaš strahotno. Izgledaš strahotno. Izgledaš strahotno. Izgledaš strahotno. Vuoi una birra? Iskaš li birra? Iskaš li birra? Iskaš li birra? Iskaš li birra? Lui e potente. Toj e mošten. Toj e mošten. Toj e mošten. Toj e mošten. Sono malato. Bolen sem. Bolen sem. Questa e la prima volta che sono qui. Za prvi pät sem tuk. 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 In tre settimane. След tri sedmici. След tri sedmici. След tri sedmici. След tri sedmici. In quale universita sei? V koi universitet si? V koi universitet si? V koi universitet si? V koi universitet si? Il cibo era pessimo. Hranata bese užasna. Hranata bese užasna. Hranata bese užasna. Hranata bese užasna. Dimentikate ne. Zabrvi. 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 Probalo. Probavai. 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 Voi qualcosa da mangiare? Iskaš li nešto za jadene? Iskaš li nešto za jadene? Iskaš li nešto za jadene? Zabrvi. Iskaš li nešto za jadene? Sono bravo con i soldi. Af m sûr. Aurala. Pode u na forma. ISkaša li nešto za jadene? Oskašujeme. Obizonyo di una firma. Sono un po' in ritardo. Nessun problema. Di che colore è quella macchina? È un regalo. Cosa fai nella vita? Cosa fai? 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 E tradizia. A che ora ti sei svegliato? Po coe vreme se sabudi? Po coe vreme se sabudi? Po coie vreme se sabudi? E tu? Amity. 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 Amity? Quanto vuoi pagare? Qualco iscaš da platiš? In quel modo? Po tozi nachin. Po tozi nachin. Po tozi nachin. Dove voresti kecci incontrasimo? Cъde iscaš da se srešnem? 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 Era fuori controllo. Tova bese izvăn control. Tova bese izvăn control. Tova bese izvăn control. Non ne sono sicuro. Non mi importa. Non ne sono sicuro. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Dov'è l'ufficio vendite? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai una domanda? Cosa fai una domanda? Non penso proprio. Non penso così. Non penso così. Non penso così. Mi dispiace. Cosa fai una domanda? Cosa fai una domanda? Svegliamo. Gioco fai. Ingriam? Iscriviti? Icriviti o novi? Iscriviti o novi? Iscriviti o novi? Iscriviti o novi? C'è religioso? 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 Non l'anno ancora incontrata. Il denaro non mi motiva. Parite ne me motivirat. Parite ne me motivirat. Mi rifiuto di. Odkazvam. 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 È lontano? Dalè ce li è? Sei uno studente? Studente li si? Parlo due lingue. Conto sudite. Razcitam na tep. Razcitam na tep. È stato facile. Beche lesno. Non farlo. Non farlo. Non farlo. Non farlo. Non farlo. Cosa è? Cosa? Cosa? Cosa è? Dove siamo adesso? In quale università studi? Sei molto gentile. Mi hai fatto piangere. Hai fatto buon viaggio? Quanto dura? La settimana precedente. Lui non mi piace. Lui non mi piace. Quanto costa? Stai perdendo il tuo tempo. Lui non mi piace. Lui non mi piace. Lui non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Ho un lavoro a tempo pieno. Lui non mi piace. 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 Hai la mia parola. Imash dummata mi. Imash dummata mi. Imash dummata mi. Imash dummata mi. Ho bisogno di una sugamano. Treba mi carpa. Treba mi carpa. Treba mi carpa. Treba mi carpa. La festa è stata annullata. Couponat bese otmenen. Couponat bese otmenen. Couponat bese otmenen. Couponat bese otmenen. Non ti deludero. Nama da te razocharovam. Nama da te razocharovam. Nama da te razocharovam. Couponat bese otmenen. Couponat bese otmenen. Couponat bese otmenen. Eto go. Posso usare il telefono. Couponat bese otmenen. 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 La folla applaudi. Tullpite applaudirà. Tullpite applaudirà. Tullpite applaudirà. Tullpite applaudirà. Sei molto bello. Ti sii molto bello. Ti si mnogo hubav. Ti si mnogo hubav. Ti si mnogo hubav. Fallo bene. Napravi go pravio no. Napravi go pravio no. Il treno è in ritardo. Vlacat zakasniavà. Vlacat zakasniavà. Vlacat zakasniavà. Vlacat zakasniavà. Che peccato. Come lo scrivi? Questo è molto difficile. Prova a pronunciarlo. Sei vestito in modo troppo formale. Posso accompagnare? C'è una casa in macchina. C'è una casa in macchina. C'è una casa in macchina. C'è una casa? C'è una casa in macchina. C'è una casa in macchina. Sono giapponese. C'è un piano. C'è una casa in macchina. C'è una casa in macchina. C'è un piano. C'è una casa in macchina. 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 Qual è il punteggio? Qual è il risultato? Qual è il risultato? Dali una possibilità? Ne vuoi ancora? Non lo tocato Suo figlio? Era delicioso Di recente Nascoro Qual è il problema? Qual è il problema? È bello vedere ti Radevam se da te vedia 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 Ha una mente acuta Ti chiamerò Radevam se da te vedia Radevam se da te vedia Radevam se da te vedia Studeno mi è Boutalovia Io lavoro per il consiglio Radevam se da te vedia Radevam se da te vedia Radevamo se da te vedian Radevam se da te vediam Andando nella direzione Ärbagliata È molto motivato. È molto motivato. Ovviamente. C'è mai stato qui prima d'ora? È rischioso? Mi piacerebbe andare a fare shopping. Iscam da otida na pazar. Iscam da otida na pazar. Aumenta la pressione. Cambiamo argomento. Com'è pronunci questa parola? È troppo. Ho bisogno di aiuto. C'è successo? C'è successo? C'è successo? Sono appena arrivato. C'è successo? C'è successo? Che cosa stai cercando? C'è successo? 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 C'è successo molto stimolante. C'è successo? 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 Mi innamoro facilmente. Vliubvam se lesno. Ho bisogno di andare a casa. Ci sono stato. Bil sem tam. Bil sem tam. Bil sem tam. Abrei voluto avere. Bil sem tam. Bil sem tam. Bil sem tam. Bil sem tam. Quanto ti devo? Bil sem tam. 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 E agressivo. Non è corretto. Per chi lavora? Za kogo lavorate? Za kogo lavorate? Adatto le dimissioni. Toi se ottegli. Sono colpevole. L'anno scorso. Minalata godina. Minalata godina. Io lavoro in un ristorante. L'anno scorso. 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 Mi capisce? Posso? 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 Que giorno è oggi? Каков ден è dnes? Каков ден è dnes? Каков ден è dnes? Каков ден è dnes? Interessante Tova è interessno Vuole guardare un film? È molto gentile Ho bisogno di una lista della spesa Ho bisogno di una lista Ho bisogno di una lista Storia settando la mia stanca Ho bisogno di una lista Ho bisogno di una lista Qu'è cosa c'è per dnesert? Millere Ma bene Non sono sposato. 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 Non society stores a cambiare idea. Non hai scena detto. Gluposti. Ne govori gluposti. Cosa hai fatto ieri? Cacquo pravi vcera? Cacquo pravi vcera? Cacquo pravi vcera? Cacquo pravi vcera? Sono una casalinga. Azzam domakinia. Azzam domakinia. Azzam domakinia. Azzam domakinia. Sta iniziando a piodere. Zapocva da vali. Zapocva da vali. Zapocva da vali. Zapocva da vali. Una nofa. Predigodina. 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 Sono un membro di una palestra. Azzam domani. Azzam domani. Azzam domani. Azzam domani. Azzam domani. Joe, pahad강 собой. Azzam domani. dépigodina. Episode 30. È stata una mia invenzione. 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 È stata unare invenzione. È stata una mia invenzione. Quante persone? Era davvero delicioso. Cosa fa' istasera? 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 Cosa preferis? 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 Posso acquistare un biletto sul bus? Posso acquistare un biletto sul bus? Ben Fatto Mnogo dobre Anno esagerato Te se prestaraha Te se prestaraha Te se prestaraha Domani dovre pe piovere Utre se ocakva da vali 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 Che terribile giornata Che scuola hai frecuentato? Amo il teatro Obicam teatro Obicam teatro Obicam teatro Lavoro in un negocio Abbiamo due maschi 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 Qui ci vengono Come si chiama? Hai visto questo film? Che cosa apprendi? È molto attraente. Faccio il contabile. Chi è in carica? Fa molto freddo. Qual è il suo nome? Posso accompagnarti a casa a piedi? Quanto tempo ci vuole in auto? Sei arrabbiato. Iadosan li si? Iadosan li si? Iadosan li si? Come al solito. Come al solito? Come al solito? Ti credo. Iadosan li si? Iadosan li si? Iadosan li si? Iadosan li si? Come al solito? dolu NACOLCO GODINI E TIA NACOLCO GODINI E TIA NACOLCO GODINI E TIA NONO ANCORA PRANZATO VSE OЩE NECÊM OBIADVAL VSE OЩE NECÊM OBIADVAL VSE OЩE NECÊM OBIADVAL VSE OЩE NECÊM OBIADVAL VUOI DELO ZUKERO Използваш ли захар? Използваш ли захар? Използваш ли захар? È complicato. Slogno è. Slogno è. Slogno è. Slogno è. Lavoro in una fabrica. Azz'rabotia v'a fabrica. Azz'rabotia v'a fabrica. Azz'rabotia v'a fabrica. Nascondilo. Scrigo. 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 Lei è molto energetica. Tia è molto energetica. Tia è molto energetica. Tia è molto energetica. Tia è molto energetica. L'Odja visto. Sono molto empenato. Tia è molto energetica. 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 Tua è molto energetica. Lo lasciato sul tavolo Si tratta di un lungo uicend Mi spiace Să-жă-ля-вam da go chu-ia Să-жă-ля-vam da go chu-ia Să-жă-ля-vam da go chu-ia Come vanno li afari? O-ti-do-h do supermarketa O-ti-do-h do supermarketa Tia e tvrde-slaba Tia e tvrde-slaba Quanto sei alta? Tia e tvrde-slaba 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 Dove il ristorante più vicino? C'è il ristorante più vicino? Puoi tradurmi questo? Siamo a corto di fortuna. Sono troppo stanco. Per quanto possibile. Che giorno della settimana è? Lavoro nell'editoria. Lavoro nell'editorio. 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 Mi piace il cibo piccante. Sono al negozio. Qual è il tuo indirizzo? Qual è il tuo indirizzo? Qual è il tuo indirizzo? Ci vediamo domani. 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 Pobrzzai. 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 È scomodo. Tava è neudobno. Tava è neudobno. Tava è neudobno. Tava è neudobno. Questo era insolito. Tava è neudobno. Tava è neudobno. Tava è neudobno. Tava è neudobno. È stato un pareggio. Tava besce rimi. Tava besce rimi. Tava besce rimi. Ho bisogno del tuo consenso. 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 Ho bisogno del bisogno del consenso. Ho bisogno del tus he avoided. Sono molto affidabili. Abbiamo perso la partita. C'è cosa hai pensato? Lui è potente. Fai freddo fuori. È sotto zero. Sei bello. Ti si krasiv. Ti si krasiv. In tre settimane. Siamo in ritardo. Abbiamo finito la benzina. In quale università sei? Mi piacerebbe andare a fare una passeggiata. Questo è il suo libro. Non mi piace questo. Non mi piace questo. Posso provarlo? Moga li da go provam? Lei è impopulare. Vuoi che accenda il televisore? Vuoi che accendere il televisore? Vuoi che accendere il televisore? Vuoi che accendere il televisore? Hai voglia di una pinta di birra? Io sono sic. ko za tiva da bere? E più veloce di me E più veloce di me Il business è redditizio Bizzesat è peccelivsh Bizzesat è peccelivsh Hai mangiato abbastanza? Stigna li ti iadene? Stigna li ti iadene? Non ho tempo adesso Sono un po' in ritardo La tua opinione è preciosa Stigna li ti iadene? Stigna li ti iadene? Stigna li ti iadene? Stigna li ti iadene? E più grande di me Stigna li ti iadene? Il tempo è bello Il tempo è bello Vremetto è bello Paggo Stigna li ti iadene? Stigna li ti iadene? Ho un sacco di cose da fare Il mare è molto agitato Il mare è molto agitato Non è tutto Da dove arrivi? Od kede pâtura? Od kede pàtura? Od kede pàtura? Od kede pàtura? Kuan tian i anno? In quel modo? Il suo sguardo può essere molto intenso. Il suo sguardo può essere molto intenso. Il suo sguardo può essere molto intenso. Sono stato licenziato. Cosa detto? Cosa dice? 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 Molto ballare. Mi manchi? Dove sono i toi bambini? È impossibile. È impossibile. La prossima volta. Sei intelligente. Ho bisogno di un'altra chiave. C'è cosa ci dice questo? Non fare lo sprecone. È impossibile. È impossibile. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Lui è molto convincente. Lui è molto convincente. Lui è molto convincente. Mi rifiuto di. È impossibile. È impossibile. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Lui è impossibile. Coronavirus. Abbiamo. 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 Questo crea troppi rifiuti. I suoi vestiti sono molto moderni. Drehite i sono molto moderni. Drehite i sono molto moderni. Sei da solo. Il piatto è caldo. Ciniata è goreșta. Ciniata è goreșta. Ciniata è goreșta. Vorrei andare a casa. Ciniata è gore. Ciniata è gore. Ciniata è gore musica. Ciniata è gore. 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 Hai finito di studiare? Svrghi li suceneto? Svrghi li suceneto? Svrghi li suceneto? Svrghi li suceneto? La tua casa è come questa? Svrghi li suceneto? Svrghi li suceneto? Quanto che estasi li è? Ache ora arrivare? Po coi tempi stai prestigionesti? Po coi tempi stai prestigionesti? Stai vedendo qualcuno. Stai vedendo qualcuno. Stai vedendo qualcuno. Stai vedendo qualcuno. Sibolto Toi se obirna Toi se obirna Toi se obirna Toi se obirna Che tipo di musica ti piace? C'è? 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 Sono bilingue Azi sem dvoezicen Azi sem dvoezicen Azi sem dvoezicen Azi sem dvoezicen Chi è il prossimo? C'è? 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 Tu sei molto paziente. Mnogo si t'rpeliv. Mnogo si t'rpeliv. Mnogo si t'rpeliv. Mnogo si t'rpeliv. Ero in biblioteca. La mia famiglia era povera. 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 Grazie per la bella serata. Grazie per la bella. Grazie per la bella. Grazie per la bella. Grazie per la bella. Che lavoro fa tuo padre? Mi piace il rischio. Mi piace il rischio. Mi piace il rischio. Falo bene. Ho un'opinione ben definita. come lo scrivi? Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Prova a pronunciarlo. Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Qual è lindirizzo? Ho quasi finito. Io sono allergico. Qual è lindirizzo? 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 Siamo stati a scuola insieme. 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 A un aspetto magnifico. Mi arrendo. Non sono mai andato all'università. A scuola insieme. 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 on-line Qual è il problema? Какво stava? Какво stava? Guidava troppo veloce Toi caraše precaleno bįrzo Toi caraše precaleno bįrzo Toi caraše precaleno bįrzo Toi caraše precaleno bįrzo Quanto dura il volo? Qualco è dll'ac poleta? Qualco è dll'ac poleta? Qualco è dll'ac poleta? Qualco è dll'ac poleta? Le manca fiducia Lipsa e uverenost Lipsa e uverenost Lipsa e uverenost Lipsa e uverenost Questo è il mio ragazzo Come lo pronunci? Perché? Come se произnacia tova? Come se произnacia tova? Come se произnacia tova? Buona idea Dobra idea Non è qui al momento Il mare è abbastanza calmo Sono allergico al pesce Sono allergico al pesce Sono allergico al pesce Daro! Subo una persona allerta dei morifani!! Sono alergischi a pale dei morifani! Ma cro ride da nuoviar! Aspettare! 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 Qual è il punto? Qual è il punto? Qual è il punto? Qual è il punto? È troppo costoso Qual è il punto? Qual è il punto? Qual è il punto? È troppo costoso Qual è tutto costoso? Chattare la faccia Mrazia il metodo Mrazia f-u-t-bu-l-la Mrazia f-u-t-bu-l-la Mrazia f-u-t-bu-l-la Mrazia f-u-t-bu-l-la Potrebbe essere peggio Aumenta la pressione. Sono appena arrivato. Che cosa stai cercando? Che cosa stai cercando? Che cosa stai cercando? Che cosa stai cercando? Vorrei usare internet. È stato molto stimolante. 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 Chi è quello? È stato molto stimolante. Mi piace guardare la TV. Mi piace passare il tempo con te. Mi piace guardare il tempo con te. Mi piace guardare il tempo con te. Mi piace guardare il tempo con te. Non è abbastanza vicino. Sono arrivati ieri. Mi piace guardare il tempo con te. È un appatia. Ho bisogno di cambiare mi. Trebava da se preobleca. Sto cercando lavoro. Ce l'ho quasi fatta. Quanto ti devo? Siamo pensionati. Più di quello. Più di quello. Più di quello. Funciona? Funciona? Il sole è splendido. Il sole è splendido. Minolata godina. Io lavoro in un ristorante. Qual è il rischio? Sono al lavoro. Sono molto motivato. Quanto è lontano? Qual è lontano? Qual è lontano? Qual è lontano? La ringrazio. Grazie. 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 Grazie a vedere le scuole. 책 C'è questo? C'è questo? In un giorno. In un giorno. In un giorno. In un giorno. Vogliamo andare da qualche altra parte? Non voglio disturbarti. 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 Chi sta parlando? C'è questo? 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 Uccis-li angliisci? Quanto è grave? Colco seriosno è? Colco seriosno è? Colco seriosno è? Colco seriosno è? Vorresti del vino? Bi li iscali malco 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 vino? Ha una bella macchina! Toi ima chubava cola. Toi ima chubava cola. Toi ima chubava cola. Ha fatto? Ovunque no, v-poruio non. In general no, v-herente non. In general no. Bi no, i in general no. No, v-��라 no. Oh com' horike no! Sono ambizioso. Ho bisogno di vestiti nuovi. C'è cosa vuoi fare? C'è la vita. Non l'ho mai fatto prima. 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 Sono un membro di una palestra. Per quanti giorni? Dove sei diretto? Non l'ho mai fatto prima. 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 Non si perdasci. Non si perdasci. Accendi l'auto. Non si perdasci. Non si perdasci. Non si perdasci. Mi sono scottato. Izgorih se. Lavoro per una banca. Quanti figli hai? Mi piace fare jogging. Mi piace fare jogging. Cosa dovrei indosare? Cosa dovrei indosare? Trebava da razcistim. Trebava da razcistim. Questa sera farà molto freddo. Cosa dovrei indosare? Cosa dovrei indosare? Cosa dovrei indosare? Cosa dovrei indosare? Abbiamo due maschi. Cosa. Troppo stress. Cosa dovrei indosare. Cosa dovrei indosare. La settimana successiva 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 Era eccellente. Quale indirizzo stai cercando? Quale indirizzo stai cercando? Non ha l'aspetto di un'infermiere. Toi ne izgleda kato medicinska sestra. Toi ne izgleda kato medicinska sestra. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Udoben. Stolat è udoben. Sto studiando economia. Uc'a economica. 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 Lui è molto sofisticato. Il suo lavoro è eccezionale. 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 Sono un cristiano. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Voglio farti un regalo. Non ti preoccupare. Voglio farti un regalo. Voglio farti un regalo. Lo spero. Non ti preoccupare. Lui è un ideale. Lui è un ideale. Lui è un ideale. Lui è un ideale. Fa freddo fuori. Lui è un ideale. Lui è un ideale. Lui è un ideale. Lui è quello della mia. Lui è quello. Lui è quello che Non mi da mai nulla. 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 Чувствam se добре. Parlo francese. Azz говоря francese. È più grande di me. È più grande di me. Il tempo è bello. Il tempo è bello. Qual è il tasso di cambio? È più grande di me. 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 Il mare è molto agitato. È più grande di me. 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 Quanti anni anno? Cosa ha detto? 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 Non mi importa. 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 Cosa ha detto? 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 La prossima volta. Nessun comento. Bez comentari. 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 Bez forme. Non fare lo sprecone. Non fare lo sprecone. Sei religioso? Il denaro non mi motiva. Parite non mi motiva. Parite non mi motiva. Qualcuno vorrebbe un cafe? Nia-ko-i-i-s-ka-li-ca-fe-e? Nia-ko-i-i-s-ka-li-ca-fe-e? Nia-ko-i-s-ka-li-ca-fe-e? Mi rifiuto di? Odkazvam. 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 È lontano? Dalè-ce-li-e? Ai filji? Imaj li dèca? Imaj li dèca? Imaj li dèca? Parlo due lingue. Estato facile. Non farlo. Ne pravi tova. Lei è così socevole. Tia è tolkova priatelsci nastroena. Tia è tolkova priatelsci nastroena. Tia è tolkova priatelsci nastroena. Il prima possibile. Mi piace ascoltare musica. Sei molto gentile. Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Ho perso il lavoro. È lontano da qui? È lontano da qui. È lontano da qui. È lontano da qui. È lontano da qui. È lontano più tardi. È lontano più tardi. Quanto costa? Qual è lontano? 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 Stai vedendo qualcuno? Sono un sogniatore. Ho un lavoro a tempo pieno. 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 Lui è in cucina. Prendi questa medicina. Ho un lavoro a tempo pieno. Si volto. Toi se obirna. Mi sento solo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Lavoro in un call center. 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 E tu hai figli sono con te? lunch. Esta è arrivando. Lavoro in un classista. Lavoro in un classista. Lavoro in un classista. 117. Lavoro in un classista. Lavoro in un classista. Lavora in un classista. E' molto elegante. Ero in biblioteca. Grazie per la bella sierata. Grazie per la bella sierata. Che lavoro fa tuo padre? Che lavoro fa tuo? Che lavoro fa tuo? Mi piace. Che peccato. Che è molto l'osso. Che è molto l'osso. Ha un' opinione ben definita. Stai attento. Questo è molto difficile. Questo è molto difficile. Questo è molto difficile. Che sapore ha? Che è molto l'osso. 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 ho perso il bilietto esgubi si bilieta esgubi si bilieta esgubi si bilieta esgubi si bilieta adeto una bugia fai buon viaggio è questo il tuo libro buon giorno come dovrei rispondere? non sono mai andato all'università abbiamo apprezzato il nostro soggiorno nasladihme se na prestoiasi nasladihme se na prestoiasi nasladihme se na prestoiasi nasladihme se na prestoiasi buona giornata buona giornata la prestoiasi la prestoiasi abitai ubitai ubitei? a ragione toi è prav sono pieno il suo figlio il suo figlio mi piacerebbe andare al negozio iscam da otida do magazina iscam da otida do magazina iscam da otida do magazina è lontano è 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 Cosa vorresti per colazione? Cosa vorresti per colazione? Cosa vorresti per colazione? Il mare è abbastanza calmo Cosa vorresti per colazione? Sono sposato Cosa vorresti per colazione? 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 È stato molto stimolante. 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 Mi piace passare il tempo con te. Mi piace. 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 esté panellino. È Testament. È aggressivo. È aggressivo. È aggressivo. È un agosto. È aggressivo. Li Rabotili Rabotili Rabotili